Pronto, chi è? Sono il fidanzato con una grande zoccola. Basta che c'è l'amore. Io sono qui a fare abbadante a vecchia. Pensa che io l'hai trombato con uno che c'è al telefono sotto controllo e chi lo controlla? Io. Basta che c'è l'amicizia. Io non so di quei dottori che raccomandano i figli. Piuttosto una faccia massa. Insomma, vitto, all'esame mi devi dare una mano per mio figlio. Begli amici che hai. Perché? Che amici? Professor Manetti. Un grandissimo amico mio. L'ha bocciato. Un grandissimo figlio della mignosa. Basta che c'è l'onestà. Allarme rosso, abbiamo le cimici in casa. Guarda che non ti esistemo io. Sono in treno, sono in binaria. Questo presidente è un professionista. Basta che c'è la fiducia. Io pensavo che fosse stato il destino a farci incontrare, va bene? Non certo un microfono nascosto dietro a un quadro. Io so che tra voi c'è un po' che d'ingomprensione. E quale? Perché si annega, signora? Stamattina è quattro volte che si è annegata al telefono. Basta che c'è la salute. Signor presidente! Che cazzo fai? C'è il tuo presidente? È il tuo presidente, è 130. Comandi, signor presidente! Oh, ma che c'hai? Non è niente. Oh, ma non è niente. Ma non è niente. Basta che c'è la stima. Mi dovete stare vicino perché visita la famiglia mia è molto bella. Ma sì! Sto siamo baronone. Nuovo buona capa. Sì! A così mi piace, amore mio. Spondanea. E se ci sono tutte queste cose? La vita è una cosa meravigliosa. Gigi Proietti, Vincenzo Salemme, Nancy Brilli, Enrico Brignano, Luisa Ranieri, Emanuele Bosi, Virginie Marsal. Un film di Carlo Vanzina. È sì, è mia. Amore, si è fatto male? No, no, io svengo sempre così, grazie.